In Campania vivono quasi 6 milioni di persone, 60 milioni in Italia, oltre 700 milioni in Europa, nel mondo siamo 7 miliardi. 8 obiettivi per il nuovo millennio e l'ambiziosa sfida che 191 stati membri delle Nazioni Unite sottoscrissero nel 2000 per attenuare lo squilibrio fra i paesi ricchi e le aree povere del mondo. Sconfiggere la fame, la miseria e l'analfabetismo, superare le discriminazioni, combattere l'AIDS, la malaria, la mortalità infantile, ridurre i rischi della gravidanza e del parto, tutelare la sostenibilità ambientale, incentivare lo sviluppo. Ogni obiettivo punta a un risultato preciso da raggiungere entro il 2015. 8 è il numero perfetto, è una mostra itinerante che racconta gli squilibri del pianeta anche attraverso esperienze interattive e multimediali. Sarà al PAN dal 22 al 26 novembre, promossa dal gruppo Laici per il Terzo Mondo, associazione napoletana di cooperazione internazionale che oltre ai progetti decentrati, soprattutto in Africa, svolge un'intensa attività di educazione allo sviluppo. Siamo un'organizzazione non governativa presente a Napoli da 40 anni e effettuiamo, realizziamo progetti di sviluppo proprio in Africa occidentale. Questo progetto, che è cofinanziato dall'Unione Europea, si rivolge ai ragazzi delle scuole e speriamo che alla fine del nostro percorso siano un po' più consapevoli sulla realtà che li circonda e sul ruolo che ognuno di noi può avere nel lottare contro la povertà e i problemi del mondo. Le mattinate saranno dedicate alle scuole. Gli studenti dagli 8 ai 18 anni parteciperanno a giochi, laboratori e percorsi guidati con animatori. Nel pomeriggio la mostra potrà essere visitata da tutti. Cultura è sempre accendere consapevolezza in ogni modo per le sensibilità giovani e la nostra attenzione al mondo dei ragazzi in questo momento è fondamentale per l'amministrazione comunale. Quindi il PAN come luogo dove i linguaggi si incontrano, dove si fanno esperienze, dove il contemporaneo è vivo e anche il luogo dove i giovani, i ragazzi, le scuole devono venire ad essere sensibilizzati. Nel caso specifico di una mostra che parla degli obiettivi del millennio per il mondo, i cambiamenti nel mondo si ottengono con le trasformazioni delle coscienze e le coscienze vanno educate. Quindi il nostro apporto in questo senso è nella direzione appunto di accendere queste scintille e nella modalità in cui lo possiamo fare.